Ferragosto all'insegna della crisi e quindi del risparmio anche per gli abitanti dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. Le città in effetti sono vuote solo apparentemente, considerato che gran parte della popolazione, ed in particolar modo gli anziani, per combattere il caldo preferiscono starsene a casa con il condizionatore acceso. I lunghi viaggi e le crociere in nave, per effetto della crisi, sono diventato un miraggio per molti. Per migliaia di lentinesi, carlentinesi e francofontesi, in effetti, le mete preferite per trascorrere la giornata di Ferragosto sono le zone balneari che vanno dalla costa Saracena a Vaccarizzo, dove oltretutto gli ingressi a mare sono liberi e dove si ha anche la possibilità di trovare ospitalità presso amici e parenti che in estate dimorano in questi luoghi. Per chi resta in città c'è solo desolazione, anche in considerazione del fatto, che anche i comuni, a causa dei tagli da parte di Stato e Regione, non hanno la possibilità di organizzare incontri musicali per realietare le calde e affose serate ai loro cittadini. Anche nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, quindi, quello di oggi, è un Ferragosto all'insegna della crisi e della consolazione. Anche nei comuni di Lentini e Francofonte, quindi,